...accesso al Giove Fusino alla memoria con un suo decreto del 10 abrilio 2008. Medaglia d'oro al merito civile con la seguente motivazione. Poliziotto coraggioso e determinato, impegnato in una difficile missione per scoprire i regali tra la mafia siciliana e quella di New York, veniva lucidato con quattro colpi di pistola esplositi alle spalle da un ignoro sicario in un via 4. Fuggito esempio di erenite virtù civiche e di erano spingi di servizio spinti sino all'esterno sacrificio. 12 marzo 1909, paremmo. It was never given really a medal, a gold medal to Joe Benazino, so finally today, from the president of the republic, it was given the possibility to do so. La medaglia viene concessa al sindaco che appunto la custodirà tra i gimei che ricordano questo vostro illustre eroico concittadino. Joe Benazino è venuto in maniera so che si può salvare questo per questo famoso pop. Voglio ringraziare il signor Presidente Claudio Meloni, rappresentare di una che è una gratitudine, la trasmette dal nostro amato Presidente Giorno Napolitano e di tutta la popolazione padulesi. Padula è orgoglioso di un pregiosino che è il suo gesto del Degendario, lui ha avuto un Natale qui e ha soggiornato a Padula qualche giorno prima di essere assassinato a Palermo. Questo dimostra che il corpo può anche morire, ma i valori e l'esempio che trasmettiamo restano comunque in vita sempre. Grazie. Grazie per questa bellissima cerimonia, per questo momento importante. ringraziare il Dr. Franco Roberti, che è l'attore generale di Salerno e il chief di DDA.